Finalmente un bel risveglio, Inter che reagisce, che risponde alle critiche, che si lascia alle spalle alla sconfitta di Dortmund, che torna prima in classifica per una sera, in attesa di vedere che cosa farà sotto pressione la Juventus, nettamente favorita su un Milan in crisi, ma alla fine siamo in attesa, speriamo di vedere una bella partita questa sera allo Stadium di Torino, ritornando alla partita di ieri, bella reazione della squadra, forse anche meglio che sia andata sotto con il Verona per poi dare quella reazione rabbiosa con un dominio totale, concedendo praticamente niente agli ospiti e costringendoli, chiudendoli nella loro metà campo per tutta la partita, tantissime occasioni e poi è arrivato prima il gol del pareggio di Vessino, a dimostrazione comunque che nonostante tanti di voi lo critichino, può essere importante e utile a questa squadra, secondo gol consecutivo, se schierato, se ha fiducia, può far bene Mattias Vessino, può essere importante anche in zona offensiva come ce lo ricordavamo bene anche ai tempi di Spalletti, il suo gol a Roma che valse la prima Champions dopo tanti anni contro la Lazio, poi il gol bellissimo, la rimonta con il Tottenham l'anno scorso e poi un po' di problemi fisici, la pubalgia e anche con Conte poi all'inizio di quest'anno non è riuscito a trovare il feeling dopo le prime partite giocate da titolare, ha poi perso la titolarità a scapito di sensi della sua qualità, della sorpresa che c'è stata con l'arrivo del centrocampista di Urbino ex Sassuolo in nera azzurro che ha stupito tutti e si è preso lui la maglia a centrocampo con Barella e Brozovic, Barella anche lui dopo un inizio un po' faticoso ha fatto vedere insomma che sono soldi ben spesi quelli per il suo cartellino come ha dimostrato assolutamente ieri con quello che lui ha definito il gol più bello della sua carriera che ha regalato all'Inter i tre punti e ha coronamento di una bellissima rimonta, qualcuno dice che l'Inter non ha giocato bene però ha dominato dall'inizio alla fine, l'unica leggerezza questa uscita di Andanovic che alla fine tocca sul piede da dietro Zaccani quindi giusto il rigore concesso da Valeri e dalla Terna, sì Terna magari una volta, e dagli arbitri compreso il giudizio del VAR Inter che fa un passo avanti, in campionato continuano a sbagliare la maglia l'abbiamo lasciata lì appesa però questa volta non ha segnato né Lautaro Martinez né Lukaku ma l'Inter ha ritrovato i gol dei suoi centrocampisti e quindi non può che essere soddisfatto Conte che non ha perso pezzi, almeno per questa partita, se insieria in panchina ma giusto come ha ricordato Conte poi in conferenza per stare vicino ai compagni dal momento che ha questo problema muscolare e servirà la sosta per riaverlo a disposizione e un Inter che così cancella un po' anche tutte le critiche, gli sfoghi, quello che è successo dopo la partita di Champions Notizia di mercato, Mertens si è offerta all'Inter, ci sarebbe già anche un principio di accordo per un contratto di due anni a 6 milioni a stagione più opzione per un terzo anno, il giocatore del Napoli, l'attaccante esterno è in scadenza quindi sarebbe libero a giugno avrà già 33 anni, però può essere uno di quei rinforzi di esperienza che chiede Conte per il Corriere dello Sport ci sarebbe già anche un accordo per la Gazzetta, si sarebbe offerto il giocatore, si starebbe trattando chiaramente un ingaggio astronomico essendo in scadenza e avendo queste offerte importanti dalla Cina, vedremo che cosa accadrà, amico di Lukaku con Nazionale può essere un ricambio anche se gli anni sono un po' passati e a Napoli sta faticando insomma un po' insieme tutta la squadra andiamo a leggere i giornali, la Gazzetta, Barella incontenibile, un gol capolavoro l'Inter in testa oggi ti fa il diavolo, rabbia ai cuori, rimontato il Verona con Vecino e il centrocampista azzurro sorpasso i 31 punti, record il tecnico orgoglioso mercato Mertens si offre, poi paura Napoli, pari tra i fischi, ladri in casa del ribelle Allan Juve-Milan imperdibile, Sarri per il primato, Pioli da rilancio punisce Chessi non convocato, questi tutti i problemi della Milan sorpassa la Juve, il Verona mette paura, nuova rimonta Inter col mago Barella Conte notte in vetta, segna subito Verre, Nerazzurri faticano a superare il muro di Juric ricordiamo che aveva la difesa migliore del campionato non una neopromossa qualsiasi, il Verona, il muro di Juric ma la ribaltano come a Bologna ancora un'altra rimonta, dimostrazione che questa squadra ha sempre di più il carattere del suo allenatore pareggia Vecino, poi super gol del giovane centrocampista l'83esimo, primo gol in campionato con la maglia nerazzura per Barella che torna a segnare nella Lega italiana dopo più di un anno dalla sua ultima rete seconda con la maglia dell'Inter dopo quella nel recupero con lo Slavia-Praga e speriamo che serva quel gol e speriamo che poi dopo la sosta nelle ultime due partite del girone Slavia-Praga a Praga e Barcellona a San Siro l'Inter riesca a cambiare anche il suo destino europeo record interista, 31 punti in 12 giornate il top da quando esistono i tre punti meglio di sempre meglio anche dell'anno del triplete poi Andanovic su Zaccagni c'è il contatto e il rigore poi giusto su Vecino il VAR, il no gol la palla non era entrata completamente le chiavi, le tre chiavi, oro in mezzo la Lula è storta l'Inter vince con i centrocampisti fondamentali nel gioco di Conte nessun coro, si temevano i bu degli ultraveronesi a Balotelli anche senza Mario ma stavolta fila tutto liscio Scricchiolio, l'Inter non subiva gol in 5 gare di fila di Serie A dal febbraio 2018 il muro va rialzato con Brozovic marcata uomo da verre De Vrij ha fatto il play, uno dei migliori come avevamo sottolineato nelle pagelle ieri Nicolò, l'uomo in più il gol da tre punti il Fing con Antonio, vittoria da grandi il Tec aveva parlato dell'inesperienza di Barella dopo Dortmund l'ex Cagliari, stanchi ma cattivi e questo come vogliamo vedere l'Inter con quella grinta, con quella cattiveria che è mancata nel secondo tempo di Dortmund Inter 6,5 complessivo nelle pagelle il migliore 7,5 Barella come ne avevamo dato noi il peggiore Lukaku 5 passi per il primo tempo Volenteroso un po' sfortunato al tiro ma la ripresa proprio no scelte sbagliate in appoggio due enormi occasioni sciuppate tutto o niente Lukaku è così, 7,5 Barella proprio nei minuti in cui si ragionava su un Barella frenetico e impreciso il ragazzo è tirato fuori dal cilindro un fantastico coniglio da tre punti candidata, miglior gol di giornata 6,5 per Conte il pacchetto Conte non contempla il bel gioco se non in ultima istanza prima vengono carattere, mentalità capacità di sopportazione e di reazione il trattamento full metal jacket adesso voglio dire che come deve giocare a una squadra che lascia un'occasione praticamente un regalo di Andanovic e bassa agli avversari e poi domina dall'inizio alla fine di tutta la partita costruendo non so quante occasioni commentate voi 5,5 Andanovic 6,5 Scrinia Redevrai 7 a Bastoni 6 a Lazzaro 6,5 Vecino 6,5 Brozovic 5 a Biraghi 6 a Lautaro 6,5 Candreva senza voto esposito ed Ambrosio Conte io fiero dell'Inter 31 punti in 12 gare chi ci pensava in crisi il tecnico facciamo sempre tesoro delle batoste da tre giorni di riposo quindi la squadra si ritroverà mercoledì ad Appiano Gentile Mertens si propone Marotta a gennaio ci miglioreremo Driessen rotta con il Napoli però cerca un ingaggio ricco i nerazzurri per ora sono freddi quindi una una visione diversa rispetto a quanto riporta il Corriere dello Sport che andiamo subito a leggere guardiamo subito che cosa scrive sul Corriere dello Sport su questa trattativa Mertens Inter intanto in prima pagina uno strepitoso gol dell'ex Cagliari restituisce il sorriso primata all'Inter Verona battuto 2 a 1 Barella per Conte Nerazzurri subito sotto rigore di Verre Vecino dal via alla rimonta completata da Nicolò quando il tecnico aveva ormai perso le speranze fiero di allenare questa squadra il club è in mano Mertens per luglio fischia Napoli dopo il pareggio contro il Genoa dopo una settimana delicata Conte torna in testa vincendo ancora il rimonta una partita complicata un tiro stellare del Cagliaritano nel finale rimette la squadra sulla strada giusta prima Verona avanti su rigore di Verre ripreso da Vecino Conte Dorm non poteva ammazzarci fiero dei miei Marotta conosco lo stile di Antonio ora uniti per riportare in alto l'Inter Nicolò è il gol più bello della mia carriera ringrazio i ragazzi per i 31 punti la di il mercato di gennaio servirà a migliorarci però ha sottolineato ancora una volta lo diciamo serve tempo ok con Conte però serve un po' più di tempo per tornare a fare la differenza per tornare a vincere Pagela del Corsport vediamole velocemente Andanovic 5 e mezzo Skriniar 6 Devrei Bastoni 7 Lazzaro 6 e mezzo Vecino 7 Brozovic 6 e mezzo Barella 7 e mezzo 6 Biraghi Candreva 6 Lukaku 6 Martinez 5 qui un po' discordante rispetto alla gazzetta Conte 6 e mezzo e poi Mertens all'Inter a tutti i parametri si profila un arrivo molto importante a zero per la prossima stagione su Ninga ha praticamente trovato l'accordo con il Belga in scadenza grande colpo Mertens non è l'unico parametro zero nel Miron dei Nerazzurri ci sono anche due esterni del Paris Saint Germain il Belga Meigneur e il francese Kurzawa uno dei due potrebbe arrivare perché intrigano più del centrale del Tottenham Vertonghen l'Inter per la prossima stagione ha messo le mani su Mertens accordo a un passo secondo alcune fonti già raggiunto col Belga che ha il contatto con il Napoli in scadenza a maggio Mertens scompirà 33 anni fisicamente però è integro ha la voglia di vincere lo scudetto e l'esperienza che serve all'Inter ha detto no a un trasferimento da 17 milioni triennale in Cina l'Inter potrebbe essere la squadra per riuscire a riportarlo a portarlo a vincere qualcosa di importante a qui in Italia vedremo poi se a gennaio ci sarà questa controffensiva poi il Napoli a vuoto guardate di fischi situazione veramente complicata con la casa di Allan uno dei ribelli svaliggiata ma adesso concentriamoci sulla giornata di oggi sosta per tirare un po' il fiato incrociando le dita che le nazionali non ci regalino altre notizie negative dopo quelle dell'ultima sosta tre giorni di riposo che ha dato Conte e in attesa di vedere che cosa accadrà questa sera Sport Media setta alle 13 Italia 1 poi la app il sito e mi raccomando iscrivetevi al canale se vedete i video e non siete ancora iscritti i vostri like i vostri commenti sempre sintonizzati grazie a tutti i nostri